Inizia domani in una nuova fase per il traffico container nel porto di Civitavecchia. Sarà ospitata la Iberian Express, una delle navi della RF Line per il collegamento tra la Cina e lo scalo locale. Si apre uno spiraglio, anzi se ne aprono due, per il mantenimento del collegamento tra Civitavecchia e Cagliari. Sulla vicenda è intervenuto il viceministro Bellanova al lavoro per il mantenimento della continuità territoriale. Il Covid-19 fa impennare la mortalità a Civitavecchia. Secondo l'Istat, nella nostra città si registra un incremento dei recessi rispetto allo scorso anno del 4,7%. Movimento 5 Stelle all'attacco, dopo il Consiglio Comunale aperto sul mercato che si è tenuto ieri. È mancata trasparenza, non ci sono state risposte di dibattito, è stato poco, affermano i grillini. Pesante addio in casa Enel SNC ai saluti il mancino Andrea Castello, che ha accettato l'offerta dell'Olympic Roma, scelta di vita, affermato il trentenne e cresciuto nel vivaio rosso celeste. Buonasera dal nostro telegiornale. Da domani inizia una nuova fase per il traffico dei contenitori nel porto di Civitavecchia. Sarà ospitata la terminal container, la Iberian Express, una delle due navi noleggiate dalla RF Line per effettuare il collegamento tra la Cina e lo scalo marittimo locale. Il contratto di noleggio delle due porta container, che svolgeranno un servizio quindicinale, ha la durata di un anno e potrà essere prolungato qualora l'iniziativa avrà successo. Un anno pieno di speranze. È quello che attende il porto di Civitavecchia, che domani ospita al terminal container, la Iberian Express, la prima delle due navi noleggiate dalla RF Line, una società italiana di spedizioni, per percorrere periodicamente la tratta con la Cina, avendo come unico riferimento marittimo in Italia lo scalo marittimo locale. Il contratto di noleggio delle due imbarcazioni, che possono ospitare ciascuna non più di 1200 teu, è stato infatti stipulato per 12 mesi, un anno nel quale la società, che a serie a Fiumicino, ma può contare su filiali sparse in tutto il mondo, potrà valutare se proseguire, magari incrementare la sua attività, oppure se interromperla. D'altronde, quella della RF Line è una scommessa particolarmente importante, visto che punta, in un momento nel quale i costi del trasporto dei contenitori sono saliti alle stelle, a offrire un servizio ad un costo ragionevole e soprattutto particolarmente rapido sul piano dei collegamenti. E mentre l'Iberian Express arriverà domani per svolgere le sue operazioni di scarico, la seconda porta container noleggiata, la Cape Flores, è già in viaggio con direzione Civitavecchia. In questo anno di sperimentazione, quindi, la linea dovrebbe offrire ai suoi clienti almeno due viaggi al mese. L'idea sembra buona, le prospettive per un mantenimento e magari per una ulteriore crescita ci sono tutte. Adesso è importante che il terminal, che in questi lunghissimi anni di poco o niente ha motivato la mancanza dei contenitori con l'assenza di mercato, sappia rispondere appieno alle esigenze del cliente. Ieri, sulla partenza della nuova linea, è intervenuto anche il presidente dell'autorità portuale. In una nota diffusa da Molo Vespucci, Musolino ha espresso grande entusiasmo per l'inizio di questa nuova avventura imprenditoriale che denota, da parte di chi l'ha messa in essere, grande visione, capacità di leggere le complicate dinamiche di mercato attuali e voglia di scommettere sul futuro, ma soprattutto sul porto di Civitavecchia. Per Musolino ciò significa che si sta riuscendo a squarciare il velo del mercato, che non riusciva a vedere Civitavecchia come un porto perfetto anche per i contenitori, diventato adesso l'unico scavo italiano che può vantare una linea diretta con la Cina. Il governo Draghi ha proposto il porto di Civitavecchia come nuovo corridoio infrastrutturale. Si tratta di una notizia che potrebbe segnare una svolta per il futuro dello scalo. Domani i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti discuteranno con una delegazione della Commissione UE, afferma il sindaco tedesco, dei nuovi corridoi infrastrutturali europei da rifinire in Italia. L'inserimento nella rete Cor del porto di Civitavecchia è uno dei quattro punti indicati come proposta principale del governo. Ciò consentirebbe di vedere lo scalo inserito tra le priorità assolute per la UE con l'apertura di corsie preferenziali per ottenere miliardi di euro a disposizione entro il 2027. Ha concluso il primo cittadino. Civitavecchia Cor continua la sua battaglia al fine di far inserire il porto di Civitavecchia nella rete europea. Cor nei giorni scorsi il comitato si è rivolto formalmente anche al segretario generale della CGL, Maurizio Landini, affinché sostenga la causa. Ci dispiace non vedere altro sostegno oltre a quello della parlamentare del Movimento 5 Stelle Marta Grande della Regione Lazio, affermano dal comitato di Civitavecchia Cor che tramite il consigliere De Paulis ha portato all'attenzione dell'Assemblea sul tema. Oltre a piccoli progetti locali, l'unico vero obiettivo comune dovrebbe essere questo, perché solo da questo passa il vero sviluppo della nostra città. E si apre uno spiraglio, anzi se ne aprono due, per il mantenimento del collegamento marittimo tra Civitavecchia e Cagliari. Ieri sulla vicenda è intervenuta il Vice Ministro con Delega ai Trasporti e alla Portualità Teresa Bellanova, la quale ha assicurato che il Governo è impegnato per il mantenimento della continuità territoriale. Nel frattempo sono anche spuntati due armatori che sarebbero interessati a gestire il servizio. Non tutto è perduto fortunatamente sul fronte del collegamento marittimo tra Cagliari e Civitavecchia. Lo schiaffo in faccia rappresentato dalla conferma da parte di Tirrenia Mobidi interrompere da ieri il servizio dei traghetti sulla tratta ha fatto scattare il campanello d'allarme, anche perché la questione è finita, come era giusto che fosse, su tutti gli organi di informazione nazionale. Così il Governo che fino a 48 ore fa non era stato particolarmente incline a spendere dichiarazioni sulla vicenda ha finalmente fatto sentire la sua voce e la voce è stata quella del Vice Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova. L'esponente Renziana, che ha proprio la delega ai trasporti e alla navigazione, ha ribadito che la continuità territoriale, ovvero il fatto che vi sia un collegamento quotidiano tra ogni punto dello stivale, è un diritto dei cittadini e delle comunità. La Vice Ministro ha aggiunto che il Ministero del Lavoro, per risolvere la criticità, sta operando sia per quanto riguarda i collegamenti marittimi da e per Cagliari che per il trasporto aereo, con l'unico obiettivo di non arrivare ad una interruzione del servizio. In sostanza, Bellanova ha voluto rimarcare che si sta lavorando per garantire sia il trasporto marittimo che quello aereo, anch'esso messo in dubbio. Ma le buone notizie non finiscono qui. Sembra infatti che siano spuntati due potenziali armatori interessati ad investire per la tratta marittima tra Cagliari e Civitavecchia. Si tratterebbe in particolare di Corsica Ferris, che negli anni scorsi ha già curato con il marchio Sardinia Ferris i collegamenti tra l'isola e Civitavecchia. L'altro nome sarebbe quello del gruppo Grendi, grande azienda cagliaritana che opera da quasi due secoli nel settore dei trasporti, con particolare riferimento alle merci e che sarebbe pronta ad estendere le sue attività anche nel comparto dei collegamenti marittimi tra il sud dell'isola e il cosiddetto porto di Roma. Le dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani hanno scatenato il dibattito politico sul tema energie rinnovabili. Sulla questione interviene David Porrello, consigliere del Movimento 5 Stelle. Il problema nasce dal fatto che ha aumentato l'apprezzo delle materie prime a livello internazionale, spiega Porrello e di conseguenza ha aumentato anche il prezzo prodotto. Una tassa sull'inquinamento che pagano i produttori di energia unito ad una congiuntura internazionale sfavorevole ed un sensibile aumento di richiesta di energia dovuta al fatto che le imprese stanno ripartendo dopo un sensibile rallentamento dovuto alla pandemia. L'Italia non può farsi trovare impreparata alla sfida delle rinnovabili, deve accelerare sulle nuove tecnologie ed essere in prima linea in nuovi progetti ambientalmente ed economicamente sostenibili. Mortalità in aumento a Cività Vecchia nei primi mesi del 2021. L'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha pubblicato nei giorni scorsi il report sui decessi per tutte le cause avvenute in Italia nel primo semestre dell'anno in corso. Il dato risulta fortemente influenzato dalle morti che sono avvenute a causa del Covid-19. Ma per saperne di più sentiamo il nostro servizio. Il Covid-19 fa impennare la mortalità a Cività Vecchia. L'Istat, Istituto Nazionale di Statistica, ha pubblicato nei giorni scorsi i dati riguardanti la mortalità nel primo semestre dell'anno in corso. Per quanto riguarda la nostra città, si registra un ulteriore incremento dei decessi rispetto all'anno scorso. Il primo semestre del 2020 si era infatti chiuso con 279 persone decedute. Il numero è salito a 292 nei primi sei mesi del 2021, con una crescita quindi del 4,7%. Va considerato però che dei 292 decessi, ben 36 sono esclusivamente riferiti al coronavirus. Senza di quelli la media sarebbe stata di 42,7, inferiore di quasi 4 punti rispetto a quella dello scorso anno e addirittura di 6 punti rispetto a quella del quinquennio 2015-2019. Infatti in quei 5 anni nei quali il Covid-19 non era fortunatamente ancora arrivato, la media dei decessi riscontrata nei primi sei mesi dei rispettivi anni era stata di 48,7, con una prevalenza durante i mesi invernali, quando le conseguenze delle normali influenze di stagione si facevano sentire. Senza il coronavirus, a Civitavecchia si osserverebbe quindi una importante diminuzione della mortalità, anche se i numeri non possono essere presi come valore assoluto, considerando che molte delle persone che ci hanno lasciati erano ultraottantenni e in qualche caso ultranovantenni. Il dato della diminuzione della mortalità sarebbe stato comunque in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi 5 anni dello scorso quinquennio, quando si era osservato un costante incremento dei decessi. Al momento, a parte quelle dovute al Covid-19, non è possibile sapere quali sono state le altre cause di morte. Su questo versante, infatti, l'Istat non ha ancora i dati completamente aggiornati. Quando arriveranno sarà quindi anche possibile verificare se c'è stato o meno un cambiamento per quanto riguarda i decessi dovuti ai tumori, dei quali tanto si è parlato nel corso degli ultimi decenni. Il referendum sull'eutanasia proposto dai radicali ha lo scopo di modificare l'articolo 579 del Codice Penale per permettere al medico di operare l'omicidio di una persona consensiente in tutti i casi che si presenti una volontà inequivocabile del paziente sano o malato. Non fa differenza. Le uniche eccezioni riguardano il caso di persona minore, inferma di mente o tratta in inganno. È la posizione del Movimento per la Vita in merito al referendum sull'eutanasia che secondo l'associazione punta non tanto a dare la dolce morte a malati terminali ma vuole liberalizzare il diritto al suicidio anche per i sani come evidenziato anche dall'onorevole Luciano Violante e dal presidente merito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Una zona centrale molto popolosa ma che versa in una situazione di degrado assoluto. La rubrica Occhio sulla città si è focalizzata questa volta sull'area di Via Leopoli e di Via Etruria in particolare le telecamere si sono soffermate su diverse discariche nell'area intorno al Chiara Grammatico e nel parco che si trova sotto i palazzoni di Via Betti. Vediamo. Ci troviamo in Via Betti, praticamente nel cuore della città chiamate ancora una volta da alcuni nostri telespettatori che ci hanno segnalato uno stato di totale degrado dell'intera area e possiamo vedere l'abbandono di rifiuti ma non sono i rifiuti consueti che troviamo magari qualche busta lasciata così da qualche cittadino poco corretto ma addirittura l'abbandono di soppelletti qualche rottame che indica che è stato abbandono addirittura anche un asdraio ci meravigliamo naturalmente perché siamo proprio vicini alla sede di CSP e soprattutto siamo nei pressi del pala grammatico e noi possiamo vedere ancora una volta in che situazione si trova siamo a due passi dalla sede centrale, passi dal comune quindi dall'habitat più frequentato, è una zona popolare e adesso vorremmo anche segnalarvi, al di là di questo del pala grammatico di cui non si ha più traccia, non si sa più nulla vorremmo anche segnalarvi la situazione di questo fabbricato ci è stato detto più volte in passato negli anni scorsi che sarebbe stato oggetto di vari interventi di ristrutturazione addirittura si era parlato di una distruzione totale per poter costruire al suo posto un'intero stabile sostituzione con altri che potessero veramente dirsi al passo ogni tempo ormai si può vedere dall'esterno ma soprattutto ci dicono gli inquilini anche dall'interno la situazione veramente disastrosa molti degli interventi sono stati effettuati dagli stessi inquilini ma probabilmente ci dovrebbe essere necessario un intervento da parte dell'ATER allora ancora la necessità di vedere che gli interventi debbono essere effettuati perché siamo nei pressi dell'istituto Baccelli l'istituto per geometri frequentatissimo e nei pressi del piccolo parco dedicato a Giovanni Gianni Grazioso ed ecco questa è la situazione un quartiere popolare frequentatissimo con moltissimi studenti e con una situazione di abbandono, di degrado che necessiterebbe assolutissimamente di immediati interventi da parte dell'amministrazione comunale e forse per quello che riguarda anche il manto stradale completamente dissestato ma anche il ritiro, la maggiore pulizia da parte di CSP e di quant'altro e concludiamo mostrandovi la parte opposta a quella che dà su Via Etruria quindi siamo sempre nei pressi dell'istituto Baccelli per geometri e ragionieri e questa è ancora un'immagine del palagrammatico con cui concludiamo questa nostra rubrica quella dedicata ancora una volta all'occhio sulla città un occhio impietoso certamente ma che dimostra come la città si è veramente piombata nel degrado più assoluto e ricordiamoci anche il poliambulatorio qui a due passi e concludendo un appello veramente bisogna intervenire d'urgenza che immagini trasmettiamo ai nostri giovani questo è il loro futuro è il loro oggi intanto Nessuna risposta, poco dibattito, poco ascolto e tanta arroganza grande assente al Consiglio Comunale Aperto sul Mercato inoltre è stata la trasparenza lo afferma il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che torna sul Consiglio Comunale Aperto di ieri sul Mercato non sono stati presentati progetti alternativi di riqualificazione riprende il Movimento 5 Stelle dopo la revoca del progetto per la Palmetta non sono state annunciate intenzioni ufficiali circa l'aumento sconsiderato dei parcheggi blu e persino la delegata del Sindaco al Mercato si è lasciata andare ad un desolato i mercatali si sentono abbandonati per ennesima volta continuano i grillini ci troviamo a rimarcare la totale ed assoluta indisponibilità al confronto da parte della maggioranza mai disposta ad ascoltare le opposizioni e neanche capace a mantenere il numero legale per proseguire il Consiglio e durante l'acceso Consiglio Comunale di ieri sul Mercato ha preso la parola anche il Direttore Generale della Roma Cruise Terminal, John Portelli il numero uno della RCT ha detto la sua sulla possibilità di migliorare lo stato del mercato cittadino non solo per i civita vecchiesi ma anche per i turisti che transitano in città attraverso le crocelle ci sono mercati come quelli di Barcellona, Madrid, Londra, Seattle e anche Roma che sono mete di turismo ci si può mangiare, bere, fare degustazioni io penso che la Comune abbia questa opportunità perché si parla molto di quello che Civita Vecchia può offrire ai turisti e ai croceristi secondo me anche il mercato può essere un'attrazione 500 persone sono scese a Civita Vecchia ieri ma secondo i nostri calcoli sono 250.000 all'anno quelle che restano in città consolidiamo il bene che già c'è per quanto riguarda il mercato ma facciamo anche un passo in avanti ha concluso Portelli offrendo il mercato come inizio di un tour di Civita Vecchia e apriamo la pagina sportiva parlando di pallannuoto secondo addio ufficiale per la NC Civita Vecchia Andrea Castello ha deciso di lasciare i Rosso Celesti e accettare l'offerta dell'Olympic Roma squadra che nasce dalle ceneri della Roma 2007 Arvalia e che giocherà nel prossimo campionato di Serie A2 un'altra notizia negativa quindi in un momento già pesante di suo per i Civita Vecchiesi che comunque avevano messo in preventiva una scelta di questo genere della Mancino che è in possesso del proprio cartellino l'intervista Siamo Andrea Castello hai lasciato il Civita Vecchia andrei a giocare all'Olympic Roma questa nuova squadra apparentemente si è fermata da quella che era prima la Roma 2007 Arvalia come mai questa decisione e questo mese particolare che hai vissuto con tante trattative per te quindi la scelta è stata sicuramente complicata Sì, quest'estate ho avuto diverse offerte e non è stato facile sicuramente decidere ma alla fine ho scelto Roma l'Olympic Roma e per motivi anche lavorativi visto che da ottobre inizierò a lavorare a Roma Quindi una scelta anche professionale non legata esclusivamente allo sport? No, 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 assolutamente anzi ringrazio il Civita Vecchia perché comunque nonostante le difficoltà siamo riusciti a salvarci lo scorso anno la scorsa stagione quindi è nulla ringrazio loro, i compagni, lo staff tecnico e comunque in questi giorni soprattutto mercoledì sono passato per un saluto e in settimana sicuramente mi allenerò con loro per salutarci e stare un pochino insieme prima di trasferirmi definitivamente a Roma Sicuramente è un momento difficile per il CIEC come hai visto i ragazzi mentre si allenavano? Qual è l'umore? Beh, l'umore l'ho visto abbastanza positivo poi sai quando si riprende l'attività è sempre un po' un piacere rivedere i compagni che magari d'estate tra lavoro e ferie, vacanze ci si perde un po' di vista però sicuramente devono puntare sull'entusiasmo ho visto che ci sarà qualche novità e ancora non so bene cosa però ho visto entusiasmo e devono puntare su questo nonostante abbiano perso qualche pezzo quest'anno però hanno tutte le carte regola per salvarsi E questo Olympic Roma invece a cosa punta? Io credo che si affronterà il campionato nel miglior modo possibile e a livello di stimoli è normale, non è una realtà quindi per me in primis è stimolante per la squadra penso che comunque l'obiettivo sia una salvezza comunque è un campionato tranquillo poi se si riuscirà a fare qualcosa in più si vedrà Ancora balla nuoto il mercato della Coser non è affatto terminato quarto nuovo ingresso per la squadra allenata da Daniele Lisi stiamo parlando di Giussi Citino Centroboa ha giudicato un grandissimo colpo dal club giallo-blu e per il movimento locale classe 97 Citino è uno dei terminali offensivi più forti della Serie A ed era seguita da tantissimo tempo dal direttore sportivo Cesare Barbetta che è riuscito a portarla a Civitavecchia cresciuta nel Cosenza Pallannuoto dove ha vinto ben due scudetti con la sua giovanile ha fatto parte anche della nazionale Under 17 e Under 18 conquistando nel 2014 una medaglia d'argento agli europei con il Cosenza ha raggiunto grandi risultati fino alla promozione in Serie A1 dove si è messa in evidenza il suon di gol ed ha anche ottenuto un terzo posto in Coppa Italia Pugilato arriva la notizia che Emiliano Marsili attendeva da settimane l'EBU, la federazione europea ha annunciato che il tizzo combatterà per il titolo vacante dei pesi leggeri contro lo spagnolo Frank Urquiaga originario però del Perù stiamo parlando di un pugile soprannominato la LEI ovvero la legge che vanta un record di 15 vittorie due sconfitte ed un pareggio ed ha avuto la possibilità di misurarsi con diversi boxer tra i più quotati per la categoria luogo e data del match da stabilirsi mancano pochi giorni alla grande avventura per Matteo Sargolini il giovanissimo padellista del club 88 a soli 13 anni sta per viaggiare in direzione della Messico per partecipare ai mondiali giovanili è la prima volta per un'atleta della nostra città Sargolini che è allenato dai maestri Matteo Massarelli ed Emanuele Fanti vuole continuare la crescita vertiginosa che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi assieme al fratello Lorenzo che però non potrà prendere parte all'evento per limiti di età l'intervista siamo con Matteo Sargolini che fra poco partirà per il Messico quindi approfondiamo questa tematica di questo evento a cui andrei a partecipare il mondiale dove andrai? andrò in Messico precisamente a Torreon diciamo una città non molto tranquilla però comunque sarà un'esperienza fantastica e cercherò di portare l'Italia sempre più avanti ultimi giorni di allenamento come sta andando la preparazione qui al Club 88? benissimo ci stiamo allenando duramente è un sacrificio diciamo abbastanza tosto e insieme a diciamo al mio maestro Matteo Massarelli e anche con l'aiuto di Emanuele Fanti stiamo facendo un bel percorso insieme e cercheremo di portarlo avanti fino all'ultimo e sempre più tosti diciamo mondiale giovanile quindi quello che andrai ad affrontare come sei riuscito a ottenere l'accesso a questo evento? come sono stati i risultati più importanti che hai avuto in questo anno? allora insieme a mio fratello abbiamo vinto il campionato italiano Under 14 anche se lui è sotto età perché a 11 anni sarebbe Under 12 in teoria ma ho deciso di portarlo insieme a me a giocare gli Under 14 perché secondo me è a un buon livello per giocare a quella categoria e abbiamo vinto questi campioni italiani non molto facili abbiamo lottato tantissimo tutte le partite diciamo al tie break finale però alla fine siamo riusciti ad avere la meglio con gli avversari e quindi abbiamo avuto la forza anche se siamo fratelli si abbiamo litigato un po' in campo però dopo ci siamo ripresi diciamo uniti e abbiamo cominciato a lottare insieme e a vincere con gli avversari Pesca domenica nelle acque della Porto si è concluso il campionato provinciale di Pesca con Canna da Riva senior sul podio per la conquista del gradino più alto e del titolo di campione provinciale Roberto Coppari della Canna da Riva Tubertini secondo Nino Magrini della Team Blue Marlin Roma Colmic terza piazza a Mauro Campidonico altro civile vecchiese della Canna da Riva Tubertini i tre il prossimo anno sono qualificati di diritto alle manifestazioni nazionali senior valide per l'assegnazione del titolo italiano bene era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook Youtube Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie ancora per l'attenzione e buono proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti